Sono Mattia Lento, sono giornalista, autore di documentari e storico del cinema di formazione. Insieme a Manuela Ruggeri ho iniziato un progetto che si intitola Libere di dover partire, nato da un'idea del Comites di Zurigo che due anni fa ci ha chiesto di girare un documentario sulla storia della migrazione italiana. Però abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione sulla migrazione al femminile, una migrazione poco raccontata. Per tutti le donne italiane svizzera erano soprattutto mogli, ma non è così. Le donne italiane svizzera sono emigrate anche come lavoratrici, come nubili e spesso anche come madri sole. Noi volevamo raccontare questa storia che continua fino ad oggi. Per raccontare questa storia abbiamo deciso di creare una piattaforma, una piattaforma che ci porta in un mondo fatto di emozioni. Sono nove ritratti, nove storie femminili, ma anche nove temi che riguardano diversi aspetti della presenza femminile italiana in Svizzera. Attraverso questa piattaforma è possibile anche interagire, soprattutto attraverso i social, e anche eventualmente restituire la propria esperienza e entrare a far parte di una comunità, una comunità pensante, una comunità che continua questa storia straordinaria delle donne italiane svizzera.